Io rappresento Unic Pels, un'azienda di alta cosmesi per la cura del nostro corpo, un'azienda italiana, il nostro impianto produttivo si trova infatti in Trentino Alto Adige. Noi garantiamo naturalmente con gli nostri ingredienti di origine naturale e una qualità innovativa del prodotto un risultato di efficacia testato e certificato per il benessere della nostra pelle. Siamo qui ospiti all'arte del riposo proprio per dare vita a questo connubio insieme al riposo del sonno, un momento in cui anche le cellule della nostra pelle si rigenerano. In queste due giornate, il 16 e il 17 marzo, Unic Pels sarà ospite dell'arte del riposo, vi offriremo una consulenza gratuita sulla vostra pelle, una prova prodotto e un set di campioncini per poter continuare a casa la vostra beauty routine. In aggiunta a tutto questo, un buono sconto del 30% sul vostro prossimo acquisto nel caso in cui i nostri prodotti vi conquistassero. Quindi vi attendiamo all'arte del riposo. Partirà dal 16, una promozione particolare solo per 15 giorni, proprio per il discorso del benessere, dove faremo degli sconti particolari, il 40% più 40%, sconto molto elevato, solo per 15 giorni, per dare la possibilità alle persone di entrare nel benessere del materasso. Vi aspettiamo il 16 e 17 dalle ore 9.30 a 12.30 e dalle 15.30 a 19.30. Il 17 domenica dalle 15.30 a 19.30.